ciao sono gianluca bocci e come potete vedere sono qui nella sede ufficiale di canon qui a milano oggi primo d'aprile non so se avete seguito le mie storie e i miei post su instagram li trovate sempre sotto gianluca.bocci mi raccomando seguitemi sono venuto qui a vedere la presentazione di lei la zoe mini questo è il modello s il modello di punta che è una fotocamera quasi istantanea come avete visto perché quasi perché in realtà non viene impressionata direttamente quella che è la stampina che sarebbe questa qui ma c'è un sensore digitale possiamo salvare la scheda sd ma viene subito e non possiamo disattivare la stampa viene subito stampata su questa carta qui che si chiama zinc e per me questa non è una novità vi ricordo infatti i miei foto mosaici che sono un foto ritrattista mosaicista mamma mia quanto è brutto dirsi vi rimando qui sopra scheda appunto quando ho fatto la mostra l'anno scorso l'anno scorso scusate con i miei foto mosaici ma adesso dovreste essere curiosi di vedere come funziona andiamo a vederla più da vicino ecco qui questa zoe mini s nella versione rosa ma esistono anche altre colorazioni vi lascio come sempre tutti i link qui sotto in descrizione vedete molto sottile molto compatta e nessun display dietro quando noi accendiamo tutte le informazioni ci vengono date praticamente tramite questa spia lampeggiante qui rispengo un attimo perché voglio farvi vedere forse è meglio farlo da spenta su via spegniti da brava eccola con vari suonini quello che è il vano in cui inserire tutte le varie stampine è un meccanismo molto semplice all'inizio poi viene espulsa questa praticamente che il foglio di pulizia ogni confezione contiene dieci stampine ne vedete quelle che sono le dimensioni poi cosa abbiamo qui sopra appunto riaccendiamo intanto così è pronta abbiamo il mirino semplice semplice ottico per traguardare abbiamo la scelta dei formati 2x3 che quindi sfrutta tutta la stampina o 2x2 che ne sfrutta soltanto una parte quadrata e volendo la ristampa perché noi quando fotografiamo subito viene comunque effettuata una stampa che esce tra poco lo faccio vedere se vogliamo possiamo ristampare l'ultima attenzione solo l'ultima in realtà tutto se noi inseriamo una scheda micro sd viene presa e viene salvata che abbiamo anche l'ingresso minimo sb per la ricarica e il puntino su cui andare a resettare se vogliamo la fotocamera dicevo le foto vengono stampate e salvate ma se vogliamo rivedere gli scatti o ristampare due tre scatti precedenti dobbiamo per forza aiutarci col lettore esterno sul sopra abbiamo appunto la spia di stato che ci sta facendo la levetta per il flash abbiamo da poco che può essere spento automatico oppure film di riempimento accensione spegnimento e scatto e sul davanti si questa caratteristica sua particolare se riesco vado anche un po a ingrandire si dovreste vedere bene il mio riflesso qui sopra metto anche meglio a fuoco c'è questo specchio con una cornice che dice ok se tu scatti la foto così ti vedrai qui c'è il mirino qui c'è un altro spia a led proviamo a fare la foto un due tre e via avete visto tutta questa cornice si va a illuminare e lui tra poco inizia a stampare c'è un ronzio e sta iniziando a uscire la stampa tutto qui tutto molto semplice tutto molto immediato allora esiste anche un altro modello che si chiama zuemini c la zuemini c come differenza c'è il fatto che non ha questo simpatico ring led non ha questo grosso specchio costa di meno questa costa 179 99 la c costa 129 99 e cambia anche risoluzione questa 8 megapixel l'altra invece a 5 megapixel in realtà la risoluzione è più che sufficiente perché queste stampine hanno come risoluzione e la vedete uscire qui in questo modo di per sé che bastano 4 megapixel per avere un buon risultato la foto è venuta di formato quadrato perché mi ero dimenticato appunto sul 2x2 tutto qui la cosa simpatica di queste stampine e che sono autodessive ovvero che mentre sto registrando non ci riuscirò mai e invece ci riesco eccole possiamo prenderle e attaccarle quindi su un quaderno di ricordi quello che vogliamo ma sono cose che penso che vi dico in maniera molto più simpatica insieme alle pacelline ok pronti per le pacelline su questa zuemini s allora iniziamo da cos'è che mi piace innanzitutto il design è sembra banale ma è bello trovare oggetti in cui c'è un po di coraggio di fare qualcosa di bizzarro lo specchio qui davanti poi è davvero fantastico sia appunto per il design sia perché quando vogliamo farci il selfie aiuta davvero tantissimo e tra l'altro diciamo molti oggetti si comprano per poter farli vedere agli amici questo è un oggetto molto particolare altrettanto particolare mi è piaciuto questo anello a led che si trova sul davanti sia utile per illuminarci bene durante i selfie sia appunto per l'effetto bizzarro curioso divertente che è una serata con gli amici insomma ci si diverte un bel po l'ultima cosa voglio dirla è il fatto il bello di poter toccare quello che facciamo quindi non le foto mandate su facebook whatsapp e via dicendo ma qualcosa possiamo prendere attaccare sul nostro diario di appunti di viaggio e avere qualcosa di tangibile da regalare agli amici abbiamo già visto prima il tastino per la ristampa ultima cosa il prezzo perché quanto costa questa signorina qui costa 179,99 è un prezzo per un gadget effettivamente non utilizzeremo mai come fotocamera ufficiale per andare a fare un matrimonio ma per divertirci con gli amici per avere un bel ricordo e secondo me anche su un matrimonio come corpo con cui fare delle foto regalarli agli sposi e gli invitati potrebbe anche essere un'idea interessante ma cos'è che invece non mi piace allora ci sono due cose non c'è il display è una scelta ovviamente voluta perché comunque la macchina rimane molto leggera cioè guardate lo spessore praticamente è quella di poco più di uno smartphone di un power bank costa poco perché ovviamente il fatto che non c'è display non ci fa pagare nient'altro ma se noi vogliamo rivedere le foto fatte non c'è altro modo che andare a sfilare la scheda sd e metterla su un computer con lettore di schede perché il bluetooth che abbiamo appunto in questo modello qui nelle s serve per fare l'inverso per prendere la foto fatta con il cellulare a modificarle tutto e mandarla e stampa qui dentro le foto da qui non posso trasferirla sul cellulare e se volessi ristampare la foto fatta tre scatti fa niente dovrei prendere un lettore passarla sullo smartphone e poi tornare qui quindi un po forzata questa cosa qui ma ragazzi questo video spero che vi sia piaciuto mi raccomando ditemi nei commenti se a voi piace la fotografia istantanea io l'adoro la sapete e detto questo ciao a tutti e al prossimo video